La mafia ha tentato di ammazzarlo e con lui Maria, che non si è mai ripresa da quello shock inaspettato di sfiorare la morte per una frazione di secondo. E questo Maurizio lo sapeva lucidamente, cioè se si dicono le cose, se ci si batte per degli argomenti, si può anche rischiare la vita e vale la pena.